In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Cari fedeli, oggi vi faccio vedere che la nostra cappella quotidiana, domestica, sta per essere rinnovata. Ecco, notate che l'altare, l'altare ho preparato questo tappeto, ho fatto mettere questo tappeto che lo copre fino ai piedi, perché è un tavolo, un tavolo che ho alzato fino a un metro, aggiungendo dei supporti di 30 centimetri. Ecco, il tessuto è questo. Ho fatto mettere un tessuto anche dietro, perché altrimenti sarebbe una libreria, un tessuto che copre dall'ultimo scaffale fino al piano del mobile, così da ottenere una specie di cappella. Perché l'altare deve essere di almeno un metro di altezza, 90 centimetri, un metro circa? Perché l'altare tridentino è un altare, non è un tavolo. Il tavolo serve per mettersi intorno seduti, perciò deve essere basso. L'altare serve per mettersi davanti in piedi e rivolgersi verso Dio, non si sta seduti davanti all'altare. Pertanto deve essere alto, deve essere sui 90 centimetri, un metro circa. Se voi andate nelle belle chiese di una volta, dove hanno conservato gli altari e le misurate, sono di questa altezza. Bene, ma oggi volevo parlarvi di un altro argomento, e cioè della credenza. La credenza è un mobile, non è il mobile che abbiamo nelle nostre case, dove rifugiamo le stoviglie, ma è un tavolino, adesso non ce l'ho qui, io uso una specie di sgabello, perché non ho proprio tutta l'attrezzatura, ma prima o poi, un tavolino che si mette a fianco dell'altare, dal lato dell'epistola. Cosa vuol dire dal lato dell'epistola? Dalla parte in cui si legge l'epistola, cioè la parte destra dell'altare. Io per comodità ho messo qui sull'altare tutti gli oggetti che servono, che si dovrebbero mettere sulla credenza. Ho detto è un tavolino, ma potrebbe essere una mensola che sporge dal muro del presbiterio, dalla parete, può essere anche una nicchia che c'è nella parete del presbiterio. Insomma, deve avere un piano, un piano abbastanza grande, da contenere tutti questi oggetti, e anche di più nelle celebrazioni solenni, tutti questi oggetti che servono per la messa, per il servizio della messa. In modo particolare, gli oggetti che servono di più sono le ampolle, ecco le ampolle, con il loro vasetto, con il loro vassoio di vetro, il campanello, ve ne ho portato di due tipi, l'unico e anche quello formato da più campanule. Poi c'è il piattello della comunione e un altro vassoio di vetro per raccogliere l'acqua del lavabo, più questo telo che si chiama manutergio. Partiamo dalle ampolle. L'ampolla è una parola che significa che ha un collo molto stretto, è un recipiente che ha un collo molto stretto, più rigonfio, nel basso. Queste ampolle in più hanno un tappo, un beccuccio molto lungo e stretto e un manico molto grande rispetto all'ampolla stessa, in modo che si possa prendere con sicurezza. Il beccuccio così lungo e stretto serve per dosare, quasi alla precisione, sia il vino che l'acqua. L'acqua è molto importante dosarla perché ne bastano poche gocce nel calice, come sapete. Poi il resto deve essere versata sulle dita del sacerdote per il lavabo. L'acqua versata finisce in questo bassoio di vetro, ma mi raccomando, si tratta di acqua benedetta perché nel rito dell'offertorio il sacerdote traccia una croce, e quindi benedice, l'ampolla dell'acqua. Pertanto è benedetta un tempo quest'acqua finiva nel sacrario delle chiese. Adesso non c'è questo sacrario. Quindi che cosa succede? Dove si può mettere quest'acqua? Per esempio, se si ha una pianta che decora decora l'altare con terra, ecco si mette anche un vaso con dei fiori, si può mettere lì e quindi in questo modo viene riutilizzata per la lode di Dio. Poi abbiamo i cam... ecco, sono di vetro. Perché di vetro? Perché è importante che le ampolle siano di vetro? perché così si vede il contenuto. Si vede il contenuto e altrimenti se sono di argento o d'oro, che è possibile, però all'esterno devono portare un segno per capire qual è quella dell'acqua e qual è quella del vino. Queste sono di vetro soffiato, queste le ampolle sono soffiate. lo si vede dal fondo dove si vede quel cerchio che è un po' è un po' diciamo non è perfetto un cerchio ed è il punto in cui si è staccato la cannuccia dall'oggetto che l'artigiano ha fatto. Altrimenti i tappi sono invece stampati. lo si vede perché hanno questo rigo che percorre tutta la metà del tappo non so se lo vedete è il punto in cui i due stampi sono stati staccati tra loro. Va bene. Passiamo quindi al campanello. Il campanello dicevo può essere unico o può essere anche così multiplo quando viene suonato al santus all'elevazione al domine non sum dignus ecco non si suona tra il gloria del giovedì santo e il gloria della vigilia pasquale si suona questi due gloria ma dopo quello del giovedì santo e prima di quello della vigilia casquale non si usa il campanello ma si usa un altro strumento che qui non c'è ed è il crotalo o raganella si tratta di una ruota con denti i quali battono contro un asse di legno e producono un suono sgraziato che ricorda appunto il dolore per la morte del Signore poi abbiamo il piattello della comunione che è questo può essere dorato può essere argentato ecco e niente ogni tanto bisogna tenerlo pulito con acqua e sapone e lucidato con quei materiali che sono adatti per i metalli bisogna stare attento a non graffiare la superficie per quanto riguarda il vino e l'acqua ecco non devono essere l'acqua deve essere pura cioè nel senso acqua normale non particolare ecco il vino deve essere un vino che non è acido quindi non deve essere diventato aceto né cominciare a diventare aceto un vino anche garantito perché io per esempio compro un vino da una cantina che ha il marchio diciamo così della curia del luogo quindi c'è anche la certificazione che un vino che si può usare per la messa non è sofisticato ci sono soltanto i solfiti affinché non si depositi il fondo per il resto è normale un vino fatto quindi d'uva certificato il vino che prendo ha una certa gradazione perché comprare altro vino al giorno d'oggi vuol dire sono vini che non durano la bottiglia rimane aperta per tanto tempo è vero che ci sono perché si usano delle minime quantità ogni giorno rimane aperta quindi se ha gradazione è meglio perché si corrompe meno cos'altro dire su queste cose vediamo ecco questo per quanto riguarda il vino l'acqua avanzata ecco come vi dicevo dovrebbe essere gettata nel sacrario oppure utilizzata in altro modo si mette il vino e l'acqua prima della messa e si tolgono dopo la messa perché nelle ampolle fanno producono il calcare oppure i segni del tartaro per quanto riguarda il vino e quindi è più difficile poi ogni tanto le ampolle vanno lavate con non solo risciacquate come si deve fare ogni volta e asciugate ma anche lavate con il detersivo da piatti in modo da far andare via tutte queste incrostazioni l'ostia allora parliamo anche dell'ostia vi dicevo l'ostia significa vittima però con la parola ostia si intende l'ostia magna si intende l'ostia magna quella che usa il sacerdote durante la messa questa questa ha le lettere chi e la lettera ro greca greche sono lettere greche la lettera chi è l'iniziale di cristo e la lettera ro che è come una pi è la seconda lettera cr cristo ecco dicevo e poi per i fedeli invece si usano le particole che si conservano all'asciutto naturalmente ecco particole che vuol dire piccola parte particola in latino è un diminutivo particella piccola parte nei primi secoli della chiesa si usava il pane azimo una pagnotta molto grande che veniva poi frantumata dai diaconi e dai ministranti durante l'agnello di dio perciò l'agnello di dio veniva cantato in maniera che fosse talmente lungo da occupare tutta quanta questa operazione specialmente quando le chiese erano molto piene di persone nelle cattedrali eccetera poi con l'andare del tempo hanno prodotto queste particole queste ostie quindi vedete come vi ho fatto vedere prima sottili sono dei dischi perfetti bianche assolutamente bianche e le particole non c'è più bisogno di stare a spezzettarle non sono più effettivamente particole nel senso vero della parola ma sono già prodotte così non sono più particelle della grande ostia che veniva frantumata ma sono già prodotte in questo modo qualcuno mi dice ma come mai si è passati dalla pagnotta ricordo che era senza lievito e quindi se passati dalla pagnotta a questa forma allora io rispondo in questo modo le trasformazioni di questo tipo all'interno della messa non solo per quanto riguarda le ostie e le particole ma in genere anche per i paramenti eccetera eccetera sono prodotto di che cosa della fede prima di tutto nella presenza reale dell'eucaristia e della fede nell'eucaristia come sacrificio di Cristo poi sono prodotto dell'amore per queste realtà fede amore e anche sono prodotto dello sviluppo tecnologico che si è verificato nella società lungo i secoli ecco quando c'era Gesù quando nei primi secoli non si poteva ancora produrre una particola un'ostia di questo tipo così sottile consistente e vedete non si frantuma e perfetta nella forma ma con il perfezionamento della tecnologia perché si tratta di usare il fuoco in una certa temperatura ma si tratta anche di usare degli stampi degli stampi in metallo fatti in una certa maniera eccetera quindi quando si è potuto arrivare a questi risultati ecco che la chiesa ha detto ecco questa va bene va bene perché deve essere perfetta perché deve essere bianca ecco e poi vi dicevo l'amore e la fede dove hanno prodotto le ostie chiediamoci questo chi le ha prodotte le producevano nei monasteri sia nei monasteri maschili che nei monasteri femminili ogni monastero nel medioevo era a sé stante cioè lì si produceva tutto per la vita dei membri della comunità ma anche per la liturgia della chiesa centrale del monastero quindi era prodotto dell'amore immaginate queste monache questi anche monaci che perfezionavano la tecnica e si ponevano anche il problema di come rendere meglio questa idea della presenza reale no? quello stesso si può dire per i paramenti pensate paramenti straordinari da dove nascono e che oggi con tutta la tecnologia non siamo capaci di riprodurre perché perché manca l'amore manca la fede ecco vedete che in questo caso il motivo per cui si è passati dalla focaccia e si è arrivati a questo e proprio per l'amore e la fede di tante persone consacrate aggiungiamo qualcos'altro il manutergio che serve appunto per asciugare le mani del sacerdote dopo il lavabo lavabo non è altro che la prima parola del salmo che il sacerdote recita quando quando si lava quando gli vengono versate l'acqua durante l'offertorio lavabo inter innocentes manus meas sono le prime parole di questo salmo mi laverò le mani eccetera eccetera ecco perché si chiama lavabo manutergio è una parola che ha che ne racchiude due manus che significa mano e tergere che significa asciugare in pratica è un asciugamani ecco in pratica dunque abbiamo visto che per riassumere i lini che servono per la messa sono tre sono il manutergio che serve per il lavabo il purificatoio che serve per il purificare il calice e il corporale che si chiama così perché proprio sul corporale quel lino quadrato non so se vi ricordate che vi ho fatto vedere in un video due volte fa ecco questo questo lino quadrato su cui viene appoggiato viene appoggiata l'ostia che diventa il corpo del Signore per questo si chiama corporale e come mai l'ostia viene tolta dalla patena e messa sul corporale direttamente direttamente a contatto col corporale proprio come quando Gesù è stato deposto nella mangiatoia e avvolto in fasce ha toccato le fasce di tela ecco ci ricorda questo fatto il rapporto tra eucarestia e incarnazione mi pare di avere detto quasi tutto si è lodato Gesù Cristo salutiamo Gesù presente nel tabernacolo si è lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e divinissimo sacramento gloria al padre al figlio e lo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e divinissimo sacramento santa giornata a tutti in nomine patris e fili e spiritus santi amen